Paolo Peirone, che da anni ci delizia con i suoi scritti, con le sue conversazioni, perché il tono dei suoi racconti non è quello dello specialista, del dotto che la mette giù dura per far vedere quante cose lui sa, ma è quello dell'amico che ti racconta delle esperienze che possono interessare anche te. Siccome lui sa molte cose, soprattutto vive molte cose, perché il giardino non è che lo studia solo, l'ha sempre vissuto, tra l'altro, cosa che gli dicono tutti, ma glielo ho detto anch'io dieci volte, questo è l'undicesima, lo invidio moltissimo, perché avere a che fare con quelle meravigliose persone che sono le piante, perché credo che tutti qui siate convinti di quello che dico, cioè le piante sono delle persone, molto spesso più rispettabili e più professionali degli umani, insomma è un grande privilegio. Poi naturalmente qui non dobbiamo scadere nell'idiglio, in questo mondo fatato, no, il giardino, voi che siete qui lo sapete benissimo, è fatica, impegno, dedizione, io ho una giardiniera in casa che lavora come uno sterratore 14 ore al giorno, non me lo rinfaccia sempre, ma insomma di fatto è così, insomma è anche una grande fatica, ma dalle grandi fatiche nascono la grande bellezza e la grande meraviglia e anche le grandi soddisfazioni. Paolo in questo libro ci invita, lui nemico degli effetti speciali, delle piante tropicali, di tutto quello che vive in altri climi e in altre zone, è anche un po' ridicolo importare poi per metterselo all'occhiello, ci invita alla semplicità che naturalmente, come tutte le, il risultato finale della semplicità è naturalmente una semplicità costruita, una pensata, scritta, riscritta, il giardino è una scrittura. E quindi è una semplicità che è frutto di un lungo lavoro, di una lunga esperienza, perché appunto senza esperienza, senza esperienza non si può fare... Senza la conoscenza. La conoscenza, sì, prima la conoscenza, certo, prima la conoscenza, poi l'esperienza, poi tutte e due. Vabbè, adesso ho parlato troppo e volevo presentarvi Anna Regge, è allieva di Paolo Peirone, architeta dei giardini, figlia del nostro amatissimo Tuglio Regge, ed è autrice, anche bravissima illustratrice, prittrice, le illustrazioni del libro sono sue, sono incantevoli e ci donano anch'essi, come lo scritto del maestro, gioia e felicità. Un giardino semplice, ma portatore di felicità. Grazie mille a Paolo e Anna e a voi tutti. Comincio io? Va bene così. Non posso iniziare la chiacchiera di questo pomeriggio, e racconto quella che sarà, senza ricordare Rolando Picchioni. Sono arrivato qui e Rolando Picchioni mi manca perché tutti gli anni venivo qui e trovavo Rolando Picchioni. Le mie due parole sono di conforto per lui, vero, e comunque che non è dimenticato assolutamente da me, e di solidarietà. Grazie. Adesso possiamo cominciare. Come è nato il tuo libro? Su richiesta dell'editore, che è qui davanti. E mi ha detto, ma come potremmo fare? Dico, ma volete proprio fare un altro libro? Dico, io ne ho già scritti alcuni, forse troppi, e chissà che non venga un'inflazione, non mi chiamo Bruno Vespa, insomma, tante cose. Invece è capitato, ed è, devo dire, andato un po' meglio di quello che pensavo, perché ero un po' pessimista, dicevo, mi ripeto, sono vecchio, dico sempre le stesse cose. Invece mi sono accorto che non è che dico sempre le stesse cose. Delle volte le dico nuove. Le dico nuove nel senso che, cosa vuol dire? La vecchiaia, tutto lì. L'età e la quotidianità di una passione e di un lavoro. Il giorno dopo giorno vuol dire, in qualche maniera, anche senza essere dei geni, proprio senza essere dei geni, si cresce in una esperienza. E l'esperienza spesso è il migliore suggeritrice di tante intelligenze brillanti. E' un argomento che, quotidiano per me, è quello del giardino. Sia nella parte fisica che nella parte, diciamo, intellettuale. Diciamo che la parte intellettuale va bene dalle otto alle nove e mezza di mattina. Meglio dalle sei alle sette e un quarto. Poi il resto della giornata è meglio che non parli. E' meglio che io facci. Dove direbbe la signorina Silvani. Insomma, bisogna che io trafichi e parli poco, perché sono stanco. E la vecchiaia ha le sue cose. Vecchiaia che, diciamo, nella quotidianità del giardino, viene combattuta con conoscenza, con rispetto, con una certa forma di abitudine. Se penso che dall'età di tre anni che faccio talee, io adesso ne ho 75, tra pochi giorni, quindi vuol dire un po' di annetti di lavoro. Faccio le talee senza accorgermene, diciamo. No, mi accorgo, però le faccio in una certa maniera e poto in una certa maniera e do delle diagnosi sulla vita delle mie piante molto pronta, molto subito. Sappiate che quando direte c'è il drenaggio che non funziona, avete sempre ragione, perché la grande malattia delle piante è sempre quella. Il drenaggio nell'orto, il drenaggio nel giardino, il drenaggio nel vasetto, il drenaggio nel contenitore. Dite sempre, per me è un problema di drenaggio e siete tranquilli. Su tutto questo, com'è nato questo libro? È nato che abbiamo cominciato a mettere insieme delle vecchie cose che avevo detto, delle nuove, e poi abbiamo cominciato a rimettere. Poi non ci siamo molto capiti, poi ci siamo ripresi e quello che doveva essere, secondo me, una leggera passeggiata sul burro è diventata una cosa molto più faticosa e più lenta di quanto pensassi. E devo dire che qui c'è la persona che mi ha, in maniera molto carina sempre, detto, andiamo avanti, non mi ha mai messo fretta e ha capito che la fretta ce l'avevo io, perché quando uno intraprende queste cose qua, vuole anche finirle, perché è importante finirle, perché sono dei piccoli lasciti, questi qua, almeno dal mio punto di vista, di un lavoro, di una vita, visto da un certo angolazione un po' speciale la mia, quella di essere un proprietario di un giardino, soprattutto amatissimo, questo comporta una visione particolare di quello che uno dice, c'è la responsabilità di una vita insieme, cioè il giardino, per me, d'accordo, è un'entità, è tutto quello che vuole, ma è più che altro è un'assemblea di amici stretti che non tradiscono, che è già una roba, che non tradiscono e che mi portano ad andare avanti sempre insieme, sempre con delle delusioni, con degli entusiasmi, quest'anno per esempio è l'anno degli entusiasmi, sapete perché? Perché l'inverno non è stato freddo, e quindi tutto è cresciuto e tutto sta crescendo in una maniera esuberante, felice, cioè il giardino bello è quando è esuberante, quando è fatto di piante semi morte io scappo, o le strappo, o non va bene, ma l'ho finito di fare perché ormai sono tutte esuberanti le piante del mio genio, fin troppo, perché le ho curate troppo, perché le ho piantate in maniera troppo entusiastica, allora l'ho capito, e adesso è arrivato il momento di selezionare, e vi dico è un lavoro difficilissimo, e forse è più difficile, il mio cuore vigliacco porta sempre a dilazionare e dire poi lo facciamo, poi vediamo, e poi invece no, invece c'è il momento in cui bisogna decidere, mi volto, scappo, e la motosega va, e è vigliacchissima come cosa, ma purtroppo per il bene degli altri, dell'insieme, bisogna farla, dunque è un libro nato sotto un aspetto di maturità, di visione matura effettualmente di questa arte, che io chiamo arte, giardinaggio, chiamatela come volete, un mestiere, insomma, va benissimo tutto. A un certo punto mi sono accorto che c'era bisogno di disegni, di fotografie, e ho detto ma io ho visto dei disegni bellissimi in vita mia, l'ho detto in casa nella casa editrice, e mi hanno detto oh, quelli di Anna Reggi li conosciamo benissimo, e adesso parla tu. Allora, come come in un giardino semplice, anche questa è una storia che io definisco di felice accoglienza e armoniosa convivenza. Io sono veramente grata a Paolo di avermi, di aver fatto il mio nome per questo lavoro, e sì, ed è un'occasione, è stata un'occasione bellissima per me, come tante che in 25 anni di lavoro con lui ho avuto. Una delle cose più importanti che mi ha insegnato da giovane architetto paesaggista è quella che l'essere architetto paesaggista non può prescindere dal fatto di osservare attentamente la realtà che ci circonda, le piante, i giardini per capire come agire in un contesto. E questa osservazione a me è ritornata utile quando ho seguito questa seconda mia passione e ho iniziato a dipingere. Quindi da qui dall'osservazione precisa delle piante dalla loro conoscenza nascono questi acquarelli. Diciamo che io qui in questo caso ho cercato di descrivere quella che è una passeggiata nel giardino di Paolo Peirone a chi mi chiede e sono in molti sapendo che lo conosco così bene com'è il giardino di Paolo Peirone e io la prima cosa che dico sempre è non è come ve lo immaginate non è il giardino lezioso con la natura ingabbiata precisino perfetto è un giardino in cui un gran casotto ma un casotto bellissimo e io lo definirei un giardino democratico perché è un giardino in cui anche la più piccola pianta ha una sua dignità sono bellissime le fioriture dei dei mughetti degli aster a profusione in grande numero accorpati splendidamente e per questo in ogni stagione è un giardino che ha qualcosa da regalare io l'ho visto già molte volte ogni volta che faccio una passeggiata lì per me è il più bel giardino del mondo e devo dire che ti faccio lavorare dentro voglio vedere beh ma lo immagino no ma in quell'occasione lì sto alla larga vengo solo a visitarlo e comunque è quello che ho cercato di descrivere moltissime delle piante che voi vedete dipinte sono state raccolte in passeggiata lì sono state accorpate più per sentimento che per veramente delle ragioni particolarmente strutturate e e all'interno siccome questo è un giardino che vive e che vive nella relazione tra le piante e gli animali che che vivono nel giardino ci sono anche tanti animali quindi inquilini esattamente ma non pagano non pagano no niente e quindi da qui nascono queste tavole che voi potete vedere che illustrano il libro continua continua e quando comunque allora io ho fatto queste tavole anche con dei tempi abbastanza ristretti ristretti e e poi devo dire che ho avuto modo di leggere il libro dopo aver fatto le tavole benché segua sempre gli articoli di Paolo sul giornale e allora è bellissimo ritrovare appunto alcune delle piante che ho dipinto nei nei pezzi sul sul libro in in particolare se mi è consentito vorrei leggere un pezzettino si può sì ma non so qual è e allora tra le tavole che ho dipinto c'è il calicantus che è una pianta che io amo moltissimo perché come a Paolo anche a me ricorda l'infanzia e sarei felice di leggervi un pezzettino di questo è breve è breve per fortuna dunque mi metto bene qua il profumo del nostro natale il suo nome è chimonantus precox ma in giardino in casa in vivaio si è sempre e soltanto chiamato calicanto e più che una pianta era il simbolo era un simbolo il nostro natale aveva quel light motive un profumo fresco e dolce mescolato ad altri profumi cera pino e in seguito panettone ma quello del calicanto primeggiava tanto che presi da fantasiosa passione si stentò anche di farne un profumo casereccio distillando chili di fiori e riuscendo in modo artigianale velleitario a produrre un nauseante noioso pasticcio un arbusto di chimonanthus precox è sufficiente a profumare un giardino e dati i tempi è già una bella e gloriosa vittoria pianta robusta e di bocca buona adatta a qualsiasi terra e a qualsiasi esposizione preferisce il sole all'ombra il calicanto viene come molte altre bellissime piante dalla Cina i fiori color paglia sono particolarmente eleganti e graziosi anche se nella varietà molto poco comune chimonanthus precox lutea dal suo meglio dal punto di vista estetico il giallo pallido dei suoi fiori in giardino e in casa tagliate le punte messe in vaso dominerà con la sua leggera trasparenza sul resto io non ho mai capito perché non venga proposto più spesso in vivaio in giardino dicono che sia complicato e difficile nella moltiplicazione in tutta la mia lunga vita giardiniera non ho mai visto incontrato potuto apprezzare invece la varietà grandiflora descritta molto spesso nei vecchi cataloghi non mi stupisco fa parte del gioco che bravo e allora e allora è bellissimo parla da sé e questo è devo ringraziare Anna che molta gente ultimamente il libro è uscito da pochissimo e ultimamente una settimana e mezza c'è molta gente che mi incontra e mi fa i disegni sono bellissimi ma fa parte del gioco fa parte veramente del gioco perché vogliono vedere la mia faccia e io dico sì sono molto molto belli soprattutto quello della copertina dico io e lui dice no allora mi vanno subito contro no no ma quelli dentro sono molto belli dico sì 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 la copertina mi piace molto e poi quello che c'è al fondo una farfalla e che gli ho detto è quasi bella come quella di Belen allora mi guardano tutti con occhi dicendo dico solo quello basta comunque devo dire il titolo è stato divertente perché è stata una battaglia lunghissima qui c'è la testimonio non è una battaglia è stata una schermaglia di titoli che sono andati e tornati e andati e tornati dalla casa editrice e il mio email e devo dire che è tutto scritto quindi se vogliamo possiamo fare una storietta sul nostro titolo comunque mi ricordo il titolo non è mio il titolo è venuto dalla casa editrice e si chiama un giardino semplice quando mi è stato proposto qui e il testimonio ho detto perfetto basta è il sottotitolo che è mio invece questo sì storie di felici accoglienze e armoniose e armoniose convivenze cioè il fatto che il giardino parlo sempre di giardino privato perché il giardino pubblico ha veramente delle differenti situazioni anche se tendiamo a dire che è tutto uguale non è uguale per niente il giardino il giardino ci si cresce insieme ci si va avanti io stamattina ho avuto una troupe della televisione italiana di tre per due ore in giardino e ho cercato di spiegare e credo che di essermi spiegato abbastanza di come sia importante sì un giardino di piante e sappiamo che le piante sono belle ma non solo comperate anzi di piante che date regalate anche anche rubate è molto molto importante quello perché si entra in un dialogo molto molto più più intimo tra tra quello che c'è e noi non posso vi giuro non posso passare nel mio giardino in denne pensando a a tutte le persone che mi sono state vicine proprio con le loro piante nella mia vita e sono tantissime cioè dalle fragoline piccole di mia nonna che erano le più profumate che sto cercando di riavere proprio quelle là quelle là e non sono ancora riuscito ad averle insomma è un po' una storia prustiana quella delle fragole ha tante altre piante che per talea per impianti o perché le avevo viste in un giardino o perché le ho riviste o perché mi sono state regalate hanno tutti una loro storia hanno tutti una loro intima vivacità nei miei confronti e io con loro devo dire che quando uno della troupe questa mattina ha fatto una marcia indietro e ha pestato un bellissimo iris che si chiama che si chiama oddio non ricordo più comunque un iris che è nato in Inghilterra nel 1949 Mrs. Phillips io sono morto dal dolore però non potevo dire niente perché io dovevo continuare a parlare sono poi passato di corsa dopo a vedere con l'eroguato era meno forte di quello che pensassi beh hanno trattato male degli amici questo iris è lì da 12 anni 13 anni e non è mai stato trattato male cioè le nostre convivenze sono convivenze di di grande affetto e e tradirlo questo affetto è duro non va bene il giardino in questo momento è particolarmente bello ed è pieno di piante esuberanti e questo che è la gioia per me il giardino è riuscito data la forza la vivacità di vita delle piante cioè sono state scelte evidentemente col tempo ma anche verificando poi sbagliando poi riprendendo delle piante nel posto giusto questa è la cosa più importante dandogli dello spazio giusto venendo qua ho visto una piazza qui dietro piantata a bagolari a distanza di 4 metri 5 metri l'uno dall'altro non capisco come nel nel 2000 si possono piantare le piante sbagliate in una città cioè il privato può sbagliare poveraccio ma la città no 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 assolutamente no queste piante devono essere piantate da 12 a 20 metri di distanza e qui sono a 4 metri 5 metri cioè sono tutte cose che si sanno non si sanno non se ne sa abbastanza soprattutto non se ne parla abbastanza devo dire che questa rubrica che mi è stata data sulla stampa che esce tutti i venerdì per me è molto importante molto difficile tenerla tra l'altro perché ogni volta e qui c'è una vittima che si chiama Alberto Fusari che è quello che cerca le basi dell'articolo gli dico cerca di qua cerca di là cerca di su cerca di giù e lui dice ma non abbiamo niente di spiritoso stavolta allora dico vediamo vediamo rivediamo è una costruzione quella ma soprattutto io la uso perché si sappiano le cose senza fare delle denunce assolutamente stupide personali perché non c'è niente di più idiota di una cosa del genere ma avvisare che il mondo va avanti e noi dobbiamo andare con loro e soprattutto dobbiamo far meno errori possibili gli errori possono essere di vario tipo ma soprattutto devo dire che quello che domina il campo è la poca conoscenza cioè ci sono non dico che uno debba capitare sempre sul libro giusto o sulla persona giusta che insegna la persona giusta può essere benissimo ed è quello che io ho tentato di fare questo me lo avoco a me facendo le mostre delle piante la prima mostra è stata a Masino 25 anni fa io ho copiato dalla Francia che si è mai inteso è che una notte mi sono svegliato e ho detto si fa Masino ho copiato da una cosa fatta cercando di copiarla bene mi sono servito di una persona che l'ha fatta diventare meravigliosa che si chiama Silvina Don Vito che era una donna eccezionale che ha lavorato veramente io ho avuto l'idea ma lei l'ha lavorato e poi c'è stato questo rapporto con il FAE che è un rapporto che da 25 anni va bene ci capiamo tutti insieme sempre sperando di fare del bene che cosa è capitato è capitato che un atto estremamente semplice che è quello di portare le piante con il curatore delle piante con quello che le fa che le ha cresciute e che spiega direttamente alla persona come le ha cresciute o come lei può crescerle hanno una risposta hanno una risposta qualcuno mi dice guardate è molto caro andare a Masino esporre le piante può essere un po' più caro ma io mi chiedo chi è che va al garden center e poi chiede come coltivare una pianta al cassiere non avrete risposte l'importante è avere risposte dalle conoscenze e con questo piccolo atto il fatto di aver fatto un mercato per dare una base solida al rapporto e poi questo rapporto invece che si instaura tra il venditore il compratore e la fiducia questo ha fatto diventare moltissimi italiani ma moltissimi non i miei di Masino ne hanno copiato tutti ogni piccolo paese fa da una o due mostre di piante all'anno e questo vuol dire portare le persone al contatto e soprattutto a far diventare gli italiani speriamo una volta tanto per sempre giardinieri gli italiani non sono stati grandi giardinieri per tanto tempo ma è anche comprensibile da quello perché venivano da campagne rurali in cui il lavoro della campagna era un lavoro duro e antipatico e certe volte che voleva l'uomo morto il giardinaggio è un'altra cosa il giardinaggio quindi è diventato invece una creazione di bello di sano perché nei giardini buoni non ci si mette un gambo di veleno e soprattutto di futuro di lunghezza di vista perché chi fa un giardino vede lontano non lo dite che la stupidaggia non lo faccio per me lo faccio per gli altri il mio giardino glielo ho fatto per me poi gli altri chissà però me l'ho fatto per me mi sono appiantato le mie piante non volevo fare la fine del mio maestro inglese Russell Page che è morto senza avere un giardino praticamente avendo condotto tanti bambini lui ha fatto da baglia io ho voluto essere genitore è stata la differenza ma soprattutto quello che dico e che mi è riuscito e ho capito è che ho fatto diventare una una passione di pochi di un'elite e nei miei tempi era una strettissima elite che poteva parlare di giardini perché nessuno si intendeva quasi niente tranne pochissime persone da elite è diventato un fatto pop e questa è una mia grandissima gioia si può parlare adesso tranquillamente oggi uno dei dei cameraman che sono venuti a girare in giardino mi ha detto e le gunner dove sono le gunner dico uno che mi chiede da quello ma 30 anni fa 20 anni fa neanche infatti ho detto ma mi spiega perché mi ha chiesto le gunner perché so cosa sono le gunner sono delle foglie grandissime sono bellissime questo è bello questo vuol dire aver seminato e noi giardinieri e ortolani sappiamo cosa vuol dire sappiamo che per seminare il prezzemolo ci vogliono 40 giorni prima che cresca il prima fogliolina che dobbiamo aspettare che la pazienza fa parte del nostro gioco che i tempi sono quelli che ci sono una grande grande scuola quella dei tempi quella del tutto subito è una delle grandi malattie della nostra civiltà è veramente una grande brutta cosa quella invece no il giardino come l'agricoltura come l'orto insomma che fanno sempre parte dello stesso gioco ci insegnano che ci sono delle scadenze che non sono quelle nostre sono le loro e che vanno rispettate io sono qua che frigo perché vorrei tanto fare delle talee nuove ho fatto tante talee di rose di piante e stanno crescendo quasi tutte e ho già tutto una nuova perché allora a questo punto mi metto a regalare perché produco regalo e vedere la gente che mi dice ma no si fatta da me impiantata da te vai è quella la bellezza anche questa forma di generosità oggi spiegavo il giardino di Virginia Woolf e di Leonard suo marito e mi hanno chiesto che cos'è un giardino Bloomsbury un giardino è un giardino sobrio tra il quacero e il don tra il sognatore e l'ippi è un giardino libero tutto lì è un giardino in cui le piante crescono in cui la potatura avviene perché deve avvenire ma nel minimo possibile ben piantato per cui le piante hanno lo spazio e in cui le frutte e la verdura hanno un ruolo più importante che la lavanda e i giacinti tutto lì cos'è il giardino a bomba grazie vorrei aggiungere solo ancora una cosa a quello che diceva Paolo lui parla della pazienza in giardino la tecnica che qui è stata utilizzata per i disegni è quella dell'acquarello una delle caratteristiche dell'acquarello fondamentale è la pazienza perché ha dei tempi di tecnici di asciugatura o di anche di riflessione estrema ci vuole una grande concentrazione una grande pazienza quindi penso che sia la tecnica sia stata la tecnica giusta per illustrare questi quando c'è vento devo fare velocissimi assolutamente tanto sole e tanto vento bisogna fare veloci quindi dipende come un giardino come per le piante anche l'acquarello ha le sue regole se qualcuno vuole fare delle domande sono qua come dicono attrice della notizia può venire sì 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 bisogna stare a certe regole le do un numero di telefono me l'ho dato davvero ma certo negli ultimi anni della mia vita 0175 257 958 257 958 no no dico che ci stanno certe regole poi uno sotto sta le regole poi non si può essere soli perché mi rubate tutto ma dovete essere in compagnia va bene altre domande l'arbre fazzoletti quest'anno è bellissimo è bellissimo è bellissimo ha perso quasi tutti i fazzoletti e sono tutti per terra e sono un po' sporchi e devo dire che però sono sempre molto belli e che pensatemi domenica che sono lì a togliere tutti i fazzoletti dalle piante perché si appiccicano un po' sulle piante sotto e qualche volta un po' marciscono le foglie delle piante sotto lavoro che posso fare solo io perché è troppo noioso però lo faccio volentieri no no c'ho due persone che mi aiutano no no non potrei no perché è piuttosto grandino ci si mette un'ora e mezza visitarlo quindi sì però bisogna avere le scarpe giuste non sono ammessi i tacchi buonasera senta io ho un problema dei pidocchi nelle rose le ho provate tutte l'aglio ma devono essere i pidocchi piemontesi perché gli piace moltissimo poi il tabacco il guloise quello proprio trinciato forte e bicarbonato con il detersivo per piatti mi puoi dire cosa vuoi sai cosa faceva mia nonna tutti pensano una ricetta toglieva la pianta e la regalava alla perpetua dicendo ti faccio un bel regalo ti faccio un bel regalo e si toglia la pianta malata perché non ce la faceva curarla e lei non era ecologa allora si era ecologa però le dava fastidio e quindi selezionava il suo giardino era bellissimo tra l'altro piccolo non c'è più niente proprio niente di tutto quello come sarà nel mio prossimo ma selezionava le piante robuste non attaccate non attaccabili dalle altre e tutte le altre venivano regalate alla perpetua che si chiamava la rosina la erda e stava a cinque giardini più in là quella della parrocchia e da lei veniva sempre bellissima e la nonna le faceva lì non la capisco sta storia comunque continuiamo a dargli le piante cioè togliersi di torno le rogne questo è cioè il giardinaggio è anche in caponirsi un po' però non esagerando secondo me bisogna anche lasciarsi vivere e non volere tutto questa è anche una grande lezione di vita secondo me di dire benissimo fin qui ci arrivo di qui dopo arrivederci buongiorno ma sui pidocchi cattivi non so cosa dirle l'unica è avere tante coccinelle dicono tutti lei vada nei campi si prende la coccinelle si le mette dentro una scatolina e le apre vicino e poi mi racconta prima della perpetua sì ma non ci sono più le perpetue non c'è più il giardino non c'è più il perpetuo c'è più niente grazie mille guarda benissimo cosa dieci minuti facciamo con quelli prima no c'è questa cosa qua che forse è interessante però la leggi tu io non so mi capace l'introduzione l'introduzione secondo me forse è interessante perché tocca a certi temi allora in giardino e soprattutto nel mio giardino benvengano le emozioni le esagerazioni i tentativi la vita vivace la paura le speranze le gioie e le sorprese l'imprevisto l'imprevisto a questo punto diverrebbe parte del vivere giorno dopo giorno e viva quindi i miei minuscoli prati di bucaneve spontanei cresciuti da soli senza un impianto logico che di anno in anno fioritura dopo fioritura ci regalano quasi all'improvviso le più belle e ripetute gioie e come giudicare il piccolo bosco naturale di Davidie che sta crescendo ai margini del gruppo ormai adulto vicino al ruscelletto o i numerosi cornus cosa che nascono un po' dappertutto nel giardino così come le piccole piante di Daphne Bolua profumate e robuste anche loro seminate e nate senza l'aiuto dell'uomo tutti insieme danno la teorica certezza della continuità un futuro pieno di vita quindi infacile e impetuoso divenire quando il giardino va da sé quando cresce sicuro e tranquillo quando si autoriproduce potrà mutarsi in un'entità forte che non dipendendo più dall'uomo affronta le difficoltà malattia in testa con grande sicurezza l'importante è poter crescere un giardino robusto nel quale la speranza divenga certezza e il futuro che piova o non piova che geli o non geli che ci siano funghi o cavallette non possa che delinearsi felice sereno e tranquillo un paio di cesoi affilate per riequilibrare le forme scappate o per tagliarne i fiori sfioriti un po' di zappa e di vanga per allontanare e annientare le piante invadenti sempre in agguato un rastrello per creare pacciamature ricche e intelligenti sono gli attrezzi primari per un giardino che cresce in modo autonomo e spontaneo un giardino quindi ospitale patria sicura per i piccoli animali che vi possono crescere e vivere dalle lucertole alle salamandre dagli uccellini ai rospi dai ricci ai topini di campagna un giardino accogliente e ricco un variopinto serraglio di amici di veri e vivaci compagni di viaggio il non aver abusato di trattamenti e veleni il non aver coperto di cure ansiose e pericolose il nostro macrocosmo microcosmo darà grandi e durevoli vantaggi al futuro giardino e il fatto che sia intensamente abitato ne è la giusta ricompensa un giardino non è soltanto un posto per sole e piante bravo benito basta ognuno a casa propria questa è la mia cosa ah ah grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti